Ciao, mi chiamo Rebecca e sono stata quattro mesi a IF New York e un mese a IF San Diego. Sono stata in campus sia a New York che a San Diego. Ho scelto questi due luoghi perché... Allora, New York l'ho scelta perché è sempre stato il mio sogno vederla, quindi è stata una scelta abbastanza semplice. E poi ho scelto San Diego principalmente perché volevo vedere la California e soprattutto volevo vedere Los Angeles, quindi ho scelto San Diego. Sono partita dopo il liceo per migliorare il mio livello di inglese. Infatti sono passata da un livello A2.1 che è un livello base a un livello B2.1 quindi sono molto fiera dei risultati raggiunti. La cosa più emozionante che ho fatto a destinazione è sicuramente stata vedere New York dall'alto perché è un'esperienza davvero unica. In generale l'esperienza la consiglio a tutti perché si conoscono nuove persone, nuove culture e si cresce e si matura molto, quindi è davvero un'esperienza da fare una volta nella vita. Ciao!